escluso il dolo per l'incendio scoppiato la notte scorsa all'aeroporto di fiumicino chiuso fino alle 14 lo riferiscono fonti autorevoli dello scalo spiegando che le fiamme sarebbero divampate da un punto ristoro del terminal 3 bruciati 400 metri quadri di negozi bloccato l'accesso all'aeroporto si confermano segnali di ripresa per l'italia nel 2015 rileva l'istat previsto un aumento del pil pari allo 0,7 per cento cui seguirà una crescita dell'1,2 per cento nel 2016 e dell'1,3 nel 2017 il dato per quest'anno è stato rivisto al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di novembre a fare da traino in particolare la domanda estera dopo l'approvazione della nuova legge elettorale il governo guarda avanti la prossima riforma riguarderà il conflitto di interessi chiederemo la calendarizzazione in aula entro giugno annuncia in un'intervista sul corriere della sera la ministra boschi la maggioranza è schiacciante nota la titolare delle riforme ma questo non significa che non si possa aprire una discussione sulle riforme costituzionali 15 arrestati e una trentina di indagati nella maxi operazione antidroga condotta da polizia e fbi smantellata la centrale operativa dell'andrangheta che da un ristorante di new york dirigeva un imponente traffico di cocaina nel locale gestito da un incensurato calabrese sequestrati oltre 100 mila dollari armi e droga il premier israeliano netanyahu ha annunciato al presidente rivlin di essere riuscito a formare un nuovo governo di coalizione la compagine si basa su una maggioranza di destra di 61 deputati su 120 resta fuori il partito di liberman ministro degli esteri uscente per napoli e fiorentina è il giorno delle semifinali d'andata di europa league la squadra di benitez ospita gli ucraini del denipro i viola fanno visita al siviglia grazie a tutti grazie a tutti